Ciao a tutti ragazzi, sono DixuMax e benvenuti in questo nuovo video, siamo tornati qua su Brawl Stars Ragazzi per questo sarò l'ultimo box opening, cioè stopino, chiamatelo come volete voi Che faremo su Brawl Stars? Ragazzi sono veramente triste, mi sta venendo da piangere Ragazzi lasciate un like, un'iscrizione, una campanella, questo qua è un video bestiale, niente più casse su Brawl Stars Bye bye i casse Brawl Stars, vi ho sempre voluto bene ragazzi, andiamo a ritirare Tra 3, 2, 1 è il momento più epico, come ho fatto di Brawl Stars e anche il momento più triste Perché ragazzi veramente mi dispiace tanto, comunque lasciate un like, un'iscrizione, una campanella Condividete il video, questo qua è il momento giusto per farlo, iscrivetevi, attivate la campanella Vi aspetto questa sera in live alle 20.30, non mancate, seguitemi su TikTok e su Discord Terzo e quarto link in descrizione, se volete fare una piccola donazione, secondo link in descrizione Vedremo che sarà l'ottavo donatore della storia, se volete comprare la mia t-shirt personalizzata di X-Max E primo link in descrizione, vedremo che sarà il terzo della storia a comprare, chiedetela per Natale Andiamo a ritirare ragazzi adesso E mamma mia, un nuovo volo di sbloccare Brawler, lo sblocco di Brawler, ah ok ho capito, si 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 Inizio a sbloccare un nuovo Brawler leggendario Ma posso scegliere? Ambra Scegliamo Ambra ragazzi, scegli Ma Ma mi hanno regalato un Brawler ragazzi, non ho capito Boh Ah, ho capito ragazzi Ho capito ragazzi, ho capito Ho capito, adesso la vai, ci sta, è una bella idea però ragazzi Sono veramente triste per che non ci saranno più le casse Brawl su Brawl Stars ragazzi Sono veramente triste, mettiamo il nome di disturbare che vi ricordo che io non posso accettare le mie cessioni video Ricompense ragazzi Oh my god Pazzesco ragazzi, guardate Veramente niente più casse Brawl ragazzi Niente più casse Brawl però mi sembra una bella idea Cioè, non mi sembra, pensavo peggio sinceramente Ok ragazzi Va bene ragazzi, dai Andiamo a giocare ragazzi, veramente mi dispiace Veramente, veramente, tanto Andiamo pure a giocare Questo nuovo evento Ladri dell'hotel delle nevi, va bene Andiamo a provare, lo proviamo con Beryl Lasciate un like, condividete il video mi raccomando Ah ma quanta roba gratuita che c'è qui Bello, là, 15 monete, vabbè, ci sta Ma ragazzi, non è malissimo Non è malissimo, cioè, non mi aspettavo peggio ragazzi Io ragazzi direi di andare a riscuotere qualcosino di tattico Io direi ragazzi che andiamo a riscuotere oggi il premio dell'aggiornamento Poi nei prossimi giorni andremo a prendere tutti Tanto scadono tra 18 giorni Quindi ragazzi direi che sì Facciamo così, dai Sono molto contento ragazzi, c'è dei like Con, vedete, non so se non lo sapevate, c'è dei like Andiamo a prendere oggi il premio dell'anniversario 640 monete e anche un po' di crediti Potremmo prendere ambra tra poco Questi qua ragazzi li prenderemo nei prossimi giorni Perché ragazzi sono comunque dei bei graffiti molto molto belli Allora ragazzi direi di andare a giocare Perché voglio vincere in questa nuova sfida Almeno una volta, dai, ce la possiamo fare Per me, se vuoi da sempre Non mancare questa sera in live alle 20.30 Mi raccomando, se siete dei bomber Non dovete mancare Com'è che funziona? Ah, devo andare a prendere... No, no, non sono... No, non mi hai fatto saltare Ma perché? Ah, ma devo non andare... Ah, ok, ho capito, ho capito, ho capito I've understood È tipo, mi ricordo, mi ricordo cos'è tipo Sì, 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 l'abbiamo già giocato ragazzi Lo abbiamo già giocato ragazzi Cioè non mi ricordo ma Chiedo che l'abbiamo... L'ho già visto questo tipo di gioco Quindi Allora c'è un mortis che non possiamo far andare Ok Perfetto Allora ragazzi io direi che devo fare una riva da ulti Devo prendere la palla Ok, questo qua la mettiamo senza problems No, non so... Ma è Tix Moxie! Non sei riuscito Mamma mia Eh raga, eh, non so se riusciamo a vincerla Sinceramente I don't think I don't think Ok Allora, grande Leon che ha ammazzato L'avversario Io devo cercare magari di andare lì Allora Mortis ci prende la palla Quindi devo stare anche molto attento a Mortis Quindi Ok, devo stare... No! No, no, no I Rix Maxie! Eh raga, credo che hanno proprio vinto Eh no, forse non hanno vinto Non lo so ragazzi Proviamo a saltare Proviamo ad andare magari Di qua Andiamo a provare le nuove reazioni Che abbiamo preso nel video Allora ragazzi Molto bene Ok Perfetto No, non ci va... No, no, no Rix Maxie Settento Perfetto Ha rubato un ragazzo Ok Eh vabbè Abbiamo perso ragazzi Abbiamo perso Abbiamo perso Abbiamo perso Vabbè Che ci possiamo fare? Sono sempre molto molto sforzi No, 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 no Ok, ok, ok Che cosa posso fare ragazzi? Devo correre Rix Maxie Devi correre Eh, bravo Ok Ho scrivato la ulti ragazzi Ma me la posso anche tirare Ok, la posso tirare Vabbè Allora noi abbiamo preso un... Siamo uno a uno Ok Ok ragazzi Rix Maxie ha rubato un regalo Mamma mia Mi ha fatto pareggiare Ma credo che Adesso anche loro pareggi Credo Allora Il primo di per me Avrebbe sbagliato Ragazzi Ok Ok ragazzi Mi sto togliendo più Ok ragazzi Grandissimo Rix Maxie Che con un ulti E con un gadget Ha tolto tutta la vita No, no, no Devo andare a difendere Questo mortis Sto anche recuperando vita Il più possibile Molto bene Devo ammazzare lui E andiamo A prendere Ok Eh no Ma non so Eh no Ragazzi Ok Eh no Ok Non ho sprecato la ulti Almeno Almeno non ho sprecato la ulti Non credo che possiamo vincere I don't know Non credo Che possiamo vincerla Allora Qui bisogna per forza Fare così Ok No, no, no Eh ragazzi Eh no Eh no Eh no Eh no No, no Leon Leon Non c'è post Dai Ma dai Non ci posso veramente Credere ragazzi Allora No, no, no No, no, no Dai Proviamo a perdere il tempo Proviamo a perdere il tempo No Non ci posso credere Ragazzi Abbiamo vinto Abbiamo vinto Mamma mia Non ci posso credere Vabbè Proviamo a fare un'altra Proviamo a fare un'altra Ragazzi Eh Perché esco Ovviamente esco Mi risiace Ragazzi Cioè Non è che Non è che Non mi sembra così brutto Questo nuovo aggiornamento Cioè Possiamo prenderci pure Ambra Cioè sta Sono contento Ragazzi Mi si è bloccato Ah no Ok Vi ricordo ragazzi Che avrei uscito Il nuovo video In cui prenderò queste Offerte speciali Per le feste Primo Secondo giorno Andiamo a fare l'ultima partita Ragazzi Dai Vediamo un pochino come facciamo Se riusciamo veramente a vincere Vediamo un attimo Vediamo Allora 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 Brawl Stars Allora Adesso però Devo concentrarmi Perché il barrel è molto veloce Allora ho fatto bene a scegliere questo Growler Allora Ok Il problema è che ci abbiamo una barrel contro E ci abbiamo anche un corvo Quindi non sarà facile andare a riuvarli Anche se loro stanno molto in difesa Ho capito Perché lui sta giocando molto in difesa Quindi Ok Io c'ho quasi la ultima Credo che non servirà molto Sinceramente E Non so cosa fare ragazzi I don't know Anche se La Ems Dovrebbe fare un botto Dovrebbe fare tanto danno Eh brava Ok 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 ragazzi Allora Adesso ci vengono Abbiamo perso Ragazzi Ma perché io sono sempre In una squadra più scarsa C'è veramente Ho molta Molta sfortuna Però se io adesso vado avanti Non c'è nessuno in difesa Eh ragazzi Invece si Eh invece si E niente Dai dai che brava mazzare Eh non so Non si può mazzare tara Ma Corvo dov'è Corvo Dov'è È morto Corvo Ah no eccolo qua Ok C'ho anche la ulti adesso Vai 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 Eh no Non siamo riusciti a prenderlo No dai Ho spiegato la ulti Non ci posso credere Allora raga Eh niente 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 Non ci faccio Non ci faccio No no Sono morto Ok ok Però almeno mi sono fatto la ulti Lasciate like se volete portare mi fortuna Eh raga Non so se riesco a Ci proveremo raga Ma non so se riesco a Vince Allora Ulti adesso ulti adesso ulti Ok tara Ok Ok Un'altra ulti Eh il Corvo Ok vabbè Il Corvo non ci farà un cavolo Non credo che ci farà niente Non ci farà un cavolo Ok non ha fatto niente Molto bene Andiamo avanti Raga io devo solamente dar fastidio Ok Là c'è un barrel Ok ok Grande Bellissima giocata Ho fatto veramente una bella giocata E il Corvo mi ha ammazzato Ok allora Siamo pareggio Ancora 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 30 secondi Meno Un po' meno 30 secondi Allora Noi abbiamo ancora 3 gadget Dobbiamo ricordarci Che ci abbiamo 3 gadget Allora il Corvo Non sta provando A difendermi Quindi significa che Ok no Significa che sono Uno scherzoon Che non si è Qualificato Allora 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 Io adesso devo farlo Devo farlo Ok ho ammazzato Devo Devo Eh bravi Bravi Dai Mandarlo avanti Eh non è Però anche quella Lì doveva mandarlo avanti Dai ragazzi Dai che ce la facciamo Dai che ce la facciamo Dai che ce la facciamo Condividete il video Ragazzi lasciate like È il momento giusto per farlo No 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 Eh non ho ucciso il cavo Eh non ho ucciso il Corvo Ragazzi Non ho ucciso Eh è un problema È un gran Eh non so se riusciamo Sono uno scherzoon Devo andare avanti Devo andare avanti Devo andare veramente avanti Devo cercare di Proviamo usare Niente il gadget Abbiamo spercato direi No vabbè Tanto ne abbiamo Eh raga Eh si fa uno uno Dovrei provare Ad attaccare adesso Eh ma stanno provando loro Eh raga No ok E direi che abbiamo Pareggiato proprio Abbiamo proprio pareggiato Va bene Partita conclusa Zero zero Eh ci siamo portati a casa Una sconfitta E un pareggio Che significa zero Vabbè Vabbè dai Almeno non l'abbiamo perso ancora E Io ragazzi direi Vi ricordo di lasciare un like Un iscrivervi Una campanella Condividete il video Vi aspetto che stasera In live alle 20 e 30 Scrivervi anche voi Nei commenti Siete tristi Per le casse Però comunque Ho visto che abbiamo fatto Un buon aggiornamento Vi aspetto Stasera in live alle 20 e 30 Compatemi di short Per personalizzare Dixmax Vi ricordo che uscirà Un nuovo video In cui prenderò Tutte queste Questi nuovi premi Per il quarto Per il secondo Il terzo Il quarto anniversario Per le feste E tanto altro Quindi lasciate un like Condividete il video E restate aggiornati Attivando la campanella Ciao A questa sera